La Speranza La Speranza La Speranza La Speranza Un attimo Ecco un attimo che sta tornando Io sono qua in regia Ha avuto un problema tecnico Piccolo problema tecnico Edoardo Eccolo qua Ok Perfetto Adesso va benissimo Quindi ci risiamo Ribenvenuti Ribenvenuti Ehm Eh va più o meno Allora aspetta Ok Il tema di oggi è sonno Sogno E premonizioni E' un tema che come anticipavo Nel dietro le quinte Nasce dal Dall'altra volta Perché sono arrivate tantissime condivisioni Partendo dalla reincarnazione Sono arrivate tantissime condivisioni Proprio su Premunizioni Su sensazioni Su questo aspetto E sonno e sogno Perché E' un tema Secondo me è molto molto interessante E a me piace partire in questa diretta Eh riportando un pochino al fatto che La moderna La contemporanea scienza e tecnologia Ha fatto e sta facendo enormi passi da gigante Ehm Senza fraintenderci Ovviamente non è tutto oro quel che luccica Eh il dolo O meglio degli abbaia luna o degli asura Si si nascondono sempre fra le ponte Pieghe E tant'è che anche appunto Quella che noi chiamiamo Scienza Nel senso tra gli scienziati Tra i tecnologi E tra la tecnologia Si sono inventati dei mezzi Meravigliosi Come appunto questo Questo Attraverso il quale noi ci stiamo vedendo Possiamo interagire Possiamo parlare Possiamo Ehm Condividere E poi appunto si sono però anche inventati Dei mezzi come possono essere Le bombe Tutta quella faccenda lì Quindi come al solito dipende sempre Da chi ha in mano Il potere della scienza e della tecnologia Senza parlare di quei sistemi lì Il sonno e il sogno Sono degli argomenti che Le neuroscienze Occidentali Hanno iniziato a esplorare Forse neanche dall'altro ieri Ma da ieri Ehm Fornendo poi già delle basi Molto molto interessanti Che poi andremo anche Se abbiamo tempo A condividere anche Ma come al solito Il ritorno sempre Su quel tasto lì È che Nelle antiche scritture orientali Eh Vediche Indiane Tibetane Soprattutto Esattamente le stesse cose Esattamente Nello stesso modo Sono scritte lì Eh Molto molto chiaramente Sono tramandate In maniera orale Eh Da tantissimo tempo Quindi Eh C'è Quella Quella Quell'aspetto È ancora super Super Di collegamento Fra oriente ed occidente Eh Basti pensare appunto A tutti gli studi Senza entrare troppo Nel tecnico Perché Non mi piace E agli studi Sulla fase REM Sulla fase del sonno Sulla fase attiva Sulla fase dei sogni Lucidi E dei sogni E dei sogni Coscenti Eh La cosa che mi incuriosisce Stra Eh Molto È che Facciamo un rapidissimo calcolo Se dormiamo Sei ore a notte Quando abbiamo Siamo arrivati Siamo arrivati a sessant'anni Sei ore a notte Sono un quarto della giornata Un quarto di sessant'anni Sono quindici anni Quindi A sessant'anni Noi Di quei Di quei sessanta Quindici Li abbiamo passati Dormendo Eh Li abbiamo passati Dormendo E di quei quindici anni Più o meno Non sappiamo nulla Eh Più o meno La scienza E la tecnologia Occidentale Ci Ci dice proprio Due cosine Ma Abbastanza stentate Ripeto Sono studi in atto E stanno progredendo Ma allo stato attuale Eh Siamo molto molto Agli albori Eh Ma ancora una volta Eh Io suggerisco di ritornare Al proprio sentire Senza affidarsi Sempre a informazioni A nozioni A conoscenze esterne Quando già noi Abbiamo spesse volte Eh La possibilità Di accorgerci Di alcune cose E poi di Di attuarle Di metterle Di metterle in atto Insomma Ecco Per esempio Sul sonno Ci è chiaro Ed è evidente A tutti Che non possiamo stare Senza dormire Eh Anche il panettiere O il medico Chi fa qualche lavoro Notturno Sa che Sì Può stare sveglio Una notte Il ventenne Magari può stare sveglio Due tre notti Di fila Ma a un certo punto Arriva il momento In cui Si crolla In cui Ci si addormenta In cui Si ha bisogno Di fermarsi Chiudere gli occhi O Anzi Gli occhi si chiudono Anche da soli Mi si chiudono gli occhi Quindi Arriviamo a quel punto lì La cosa Impressionante Che a me ha aperto La porta Dell'indagare Più a fondo Questi temi È quando ho letto Che in realtà Nessuno Scienziato Occidentale Sa Perché dormiamo E dico Ma come Non so perché Dormiamo Perché siamo stanchi Sicuramente Ma perché Dobbiamo recuperare Perché il nostro corpo Ha bisogno di recuperare Quindi Ho pensato io Ho approfondito E in realtà Ho scoperto Che non recuperiamo Proprio niente Anzi Ci sono alcuni Voci Del consumo energetico Che aumentano Durante la notte Quindi Per esempio Il consumo d'ossigeno Faccio un esempio È maggiore Quando dormiamo Che quando siamo svegliati In una situazione di relax E di riposo Quindi in teoria Dovrebbe essere più rilassante Riposante Stare sul divano A meditare O guardare il muro O la televisione Piuttosto che dormire E Quello è Un pochino Destabilizzante Soprattutto Per quel che riguarda Le mie conoscenze Apprese Tra i banchi di scuola E allora Riposiamo Perché la mente Pensa troppo Ha bisogno Stiamo tutto il giorno A pensare Siamo iperanalitici Abbiamo bisogno Di fermarci E Acquietare la mente Ma ancora una volta Le neuroscienze Ci dicono Eh no Perché Quando durante il sonno La mente Non si spegne per nulla Non riposa per nulla Anzi Rielabora Riprocessa Il vissuto E crea anche Delle cose nuove E crea anche Delle cose nuove Cioè vive Delle esperienze Vive delle esperienze Che Noi siamo Portati a relegarle Nel Ho fatto un sogno Però Non è sempre Solo quello Nel senso che a volte Appunto Come anticipato prima Sono Delle nostre proiezioni O Uniamo Qualche ricordo E qualche vissuto Della giornata Ma a volte Assolutamente no A volte Sogniamo Viviamo Durante il sonno Diciamo Sogniamo Determinate situazioni Viviamo Determinate situazioni Apparentemente O meglio A volte Che appartengono A questa Incarnazione O che potrebbero Appartenere a questa Incarnazione Passata O futura O a volte Ci sembra proprio Di vivere Con degli altri vestiti Incontrando delle facce Magari Che ci risuonano Familiari Ma che gli occhi Non riconoscono Che la mente razionale Non riconosce O magari Una casa Che non abbiamo mai visto E questo Come Lo possiamo spiegare Possiamo dire Eh vabbè Sì siamo dei tipi Molto fantasiosi Però allora Vorrebbe dire Che c'è una persona Fantasiosa Che dorme E una persona Fantasiosa Che sta sveglia Che è una possibilità Che non escludiamo Assolutamente Però Già di fatto Stiamo ammettendo Che ci sono due fasi Completamente diverse Che ci sono due Universi Eh almeno due Universi Eh paralleli Nel senso di Contemporanei Perché mentre io dormo Il mio corpo è nel letto O sul divano O sotto un albero Eh però la mia mente È da qualche altra parte Il mio spirito È da qualche altra parte O è nel corpo Eh Proviamo a pensarci Proviamo a farci caso Proviamo a trovare Una risposta Il fatto che il sonno E il sogno Siano aspetti Completamente scollegati Dalla nostra realtà Che viviamo ad occhi aperti E anche questo È molto facilmente Confutabile Eh Proviamo a pensare A quante volte Ci svegliamo Con lo stato d'animo Che abbiamo vissuto Nel sogno Con l'emotività Che abbiamo vissuto Nel sonno Eh Per esempio Abbiamo Litigato Con qualcuno Nel sonno O nel sogno E ci svegliamo Ancora con Quella rabbiettina lì Che magari dura 3, 4, 5 secondi Finché non diciamo Ah no beh Ma non è qua È là E allora ci passa E però c'è Però è ancora presente E può essere rabbia Può essere gioia Può essere amore Può essere qualunque tipo Di emozione Che noi appunto Viviamo In quella fase lì Che poi Rincontriamo Riportiamo Nella fase Nella fase di veglia E finché dura Pochi secondi O finché noi abbiamo La lucidità Di scernere Di scernere Queste due realtà Vabbè Diciamo Tutto bene E quando poi Però si creano Dei tilt Nel senso Quando confondiamo Quando sovrapponiamo Le nostre proiezioni mentali Da dormienti O da lui O da svegli Alla Alla realtà Che viviamo Che allora Si creano Dei tilt Nei massimi sistemi Poi sono delle patologie Nei minimi sistemi Possono dare Per esempio Possono avvelenare La nostra quotidianità Ah oggi mi sono svegliato Col piede storto Mi sono svegliato Col piede sbagliato Poi possiamo dare la colpa Al fatto che piova Al fatto che Non lo so Facciamo sempre un passo indietro E cerchiamo di analizzare Se per caso Ci siamo portati dietro Qualche pensiero Qualche emozione Dal cosiddetto Mondo onirico L'antica filosofia Usiamo la parola filosofia Potremmo tranquillamente Sovrapporla alla parola scienza Ma diciamo Filosofia Tibetana Ci spiega benissimo E ci racconta benissimo Come ci siano le tre fasi Di sonno Di sogno E di veglia Cosa a cui poi Anche le neuroscienze Sono assolutamente arrivate L'antica filosofia Tibetana Però ci dice Che c'è un'altra fase Detta in sanscrito Turia O Turia Ovvero una fase Che unisce Tutte queste tre Fasi Il quarto Stato della mente Quando io Ho pienamente Coscienza Del sonno Ho pienamente Conoscenza del sogno E ho pienamente Coscienza Della veglia Avere Piena Coscienza Del sogno Mi aiuta tantissimo Innanzitutto Perché io Se arrivo a 60 anni Ho la possibilità Di aver vissuto Altri 15 anni Nella fase di sogno E quindi Di dirigere Anche quella parte lì Deve però partire Da una coscienza Da una consapevolezza Dell'addormentamento Io Ripeto spesso Che non conviene mai Addormentarsi Con la televisione accesa Con il cellulare in mano O leggendo un libro Perché sennò Io Sì mi addormento Ma non ho coscienza Non sto vivendo In maniera consapevole Il fatto che mi sto Addormentando Mentre se io Appoggio il cellulare Spengo la televisione Anzi non la metto Neanche in camera Vado a letto Con l'idea Di andare a letto Per dormire Certo posso leggere Due o tre pagine O guardare un attimino Il cellulare Poi appoggio E dico Ok adesso si dorme Mi accorgo Di quella frazione Di secondo In cui si passa Dalla veglia Al sonno E Ci sono riuscito io Ci potete riuscire Anche voi Provateci A vivere appunto Quel momento Di dire Ok mi sto addormentando È una frazione di secondo Che se allenata È molto facilmente Riconoscibile E poi a quel punto Ok Mi sono addormentato Sto sognando Come voglio vivere Questo sogno Dove voglio andare Cosa voglio fare Come voglio comportarmi Ci posso riuscire Sempre Ci posso riuscire Magari quando sono Un po' meno stanco Certo che se noi Andiamo a letto Che crolliamo dal sonno Allora diventa Un pochino Un pochino più complicato Però Se noi Lo scegliamo Lo decidiamo Lo pianifichiamo Esattamente come pianifichiamo Andare dal dentista Piuttosto che Andare in palestra Piuttosto che collegarsi A vedere questa Bella direttina E allora Cambia un po' Quindi Mi addormento In maniera consapevole Dirigo il sogno Ho un sogno lucido Che magari Mi può chiarire Alcuni aspetti Del mio passato Mi può far rivivere Alcune situazioni Che non mi erano chiare Perché ero troppo dentro Ero troppo coinvolto Nel sogno magari Riesco ad avere La giusta prospettiva La giusta distanza Le incasello Nel giusto punto Che è il passato Non permetto più Di influenzare Il mio presente E quindi neanche Il mio futuro Oppure Come l'ultimo pezzo Del titolo Premunizioni Mi permette Di avere Quella percezione Mi permette Di vivere Quel tipo di esperienza Che adesso Se ne avete Vi chiedo di condividere Collegarvi magari Anche con l'audio Così possiamo sentire Dalla vostra viva voce Cioè quella volta Che durante il sogno Ho vissuto Quell'esperienza E accidenti Poi il giorno dopo Si è verificata Poi due giorni dopo È andata Esattamente così Vedo Stefano Quindi forse ci sono Delle domande Già O delle condivisioni Sì Prima di passare La parola a Gabriella Gianni No Gianni Ci dice Stanotte ho sognato Come già in altra occasione È capitato Di sognare Di essere in macchina Con i miei genitori Deciduti E di non riuscire A far funzionare Perfettamente Il freno a mano Della Della macchina Questa è la domanda Che pone Gianni Allora Sull'interpretazione Dei sogni Bisogna andare A ripogliersi A chi è esperto Di questa faccenda qua La cosa affascinante Che mi ha colpito Subito di questo racconto E poi magari anche Gianni Ci potrà dire Se ha avuto contezza Ma evidentemente Se pone la domanda così Credo di no È che a me è capitato Non durante il sonno Ma durante la veglia Di avere esattamente Più o meno Una visione simile Cioè che Alla mia macchina Che avevo all'epoca Non venisse messo Il freno a mano E poi L'avevo L'avevo prestata In quel momento La persona La persona a cui L'avevo prestata Ha fatto esattamente Quello che avevo visualizzato Cioè non ha messo Il freno a mano La macchina era In Una strada in discesa E la macchina è finita Contro il muretto Dall'altra parte Della strada Quindi io ho avuto Quella percezione Che nel giro Di 3-4 ore Si è Si è verificata Ecco Quindi questo è anche Un altro aspetto Cioè Quella Visione Quella visione Nel quarto stato Della mente Nel turia Degli amici tibetani Cioè quando si ha Piena coscienza Di ciò che potrebbe accadere Io non l'ho Indotta Quella visione Mi è arrivata L'ho colta a metà Perché se no Avrei chiamato Quella persona Se invece L'avessi colta Per intero Forse avrei evitato Che la mia macchina Si schiantasse Fortunatamente Danni lievi Contro il muretto Dall'altra parte Della strada Insomma Ecco Adesso Do la parola Gabriella Gabriella Ci sei? Guarda Ho una telefonata In corso Se possiamo Sentirci dopo Va bene Dai Ti chiudo il microfono Alzi tu la mano Va bene? Allora Se volete Far delle domande Su quello che Fino adesso Ha detto Il nostro Edoardo Le potete fare Leggo Scusami Che Gianni Ha aggiunto Un pezzettino C'è una sua Interpretazione Lo leggo io Forse il timore Di non saper Controllare bene Ciò che mi capita Intorno È una cosa Che mi fa paura Questo è un argomento Super interessante Gianni Non sei solo Non sei l'unico Uno dei nostri Grossi scogli È L'illuderci Di volere O di poter Controllare Quello che ci sta Attorno Noi vorremmo Controllare Tutto quello Che ci sta Attorno Perché abbiamo Tremendamente Paura Dell'ignoto In maniera Inconscia Qua chi più Chi meno Naturalmente Però Tutti vorremmo Sapere Con certezza Che uno più uno Fa due Che se a uno Aggiungiamo uno Otteniamo Otteniamo due In realtà Non è così Va bene Per la matematica E per il sistema Analitico Ma per rapportarsi Con l'universo Che ci circonda Dobbiamo essere Assolutamente pronti Al fatto che uno Più uno Faccia due Al fatto che uno Più uno Faccia 0,9 O faccia 128 Perché è l'unico È l'unico modo Quindi la tua paura È più che giustificata Quello che ti posso Invitare a fare È di cercare di Non di ignorarla Perché le paure Non vanno ignorate Ma vanno Neanche affrontate Perché già Prevede uno scontro Ma vanno Incontrate Conosciute Vanno Abbracciate Proprio per Cogliere magari Che cos'è che ti fa paura Del fatto di non poter Controllare Uno, due, tre Aspetti E Il primo passo È quello di Rendersi conto Che in realtà Gli aspetti Che possiamo Veramente controllare Li contiamo Forse sulle dita Di mezza mano Perché sono Tendenti allo zero Ecco Quindi se noi partiamo da lì Accettiamo che possiamo Controllare pochissimo E pian piano Impariamo ad accettare Il fatto che Che in realtà Non possiamo controllare Praticamente nulla Insomma Poi prima di passare la parola A Maurizio da Zoom Mister Kiel Dice che lui sogna molto E sembra Gli sembra sempre Di precipitare Riassumo E' possibile che ci siano E' possibile che ci siano A tutti Non è che capita Non è che capita solo a Mister Kiel Quell'idea di cadere O di riprecipitare Nel corpo Capita a tutti E' capitata Parlando con 20 persone E' capitata a 20 persone Insomma Immagino che anche voi Che state guardando Almeno una volta Vi sia capitato Potrebbe essere Che sia l'anima La coscienza Che rientrano nel corpo Che erano via E che rientrano nel corpo E siccome Non siamo pienamente Coscienti O il rientro E' molto traumatico La sensazione è quella di cadere Ma perché forse Non è una sensazione Forse effettivamente La coscienza Magari viene riattratta Magari viene ritirata Però Ricade Nel corpo E quindi la sensazione E' quella lì Del cadere Del precipitare Insomma Di quell'aspetto Quindi Assolutamente Sì che secondo me Si va In altre dimensioni In altri universi In quelli che Vengono Detti universi Paralleli O contemporanei Contemporanei Allora Do la parola a Maurizio Poi si prepari Elena Da Telegram Un attimo Maurizio Vai Sì scusate Gabriele Ha asciutto Una telefonata Quindi Cioè sono Un casino Sono andato Su Zoom Io vorrei Mi senti Stefano Sì spero Forte e chiaro Vorrei spezzare Una lancia Per quelli Che un po' Non credono Troppo a queste cose E un po' Non hanno mai avuto Diciamo Percezioni Extrasensoriali O premonizioni Come me Io Non ho mai avuto Di questo tipo di cose L'unica cosa Semplicissimo E il discorso Di volare Di alleggiare Su Dei terreni Che arrivano Al mare Comunque La domanda Io Volevo fare Una domanda Specifica Cosa Cosa ne pensa Il tuo ospite Circoni Che Diciamo Del fatto Che Io Mi definisco Una persona Sono sempre stato Un po' Tormentato Diciamo E penso Che questo Abba influito Molto Sul sonno Infatti Io Nel sonno Soffrivo Di bruxitia Quando avevo Tutti i denti Diciamo E dovevo Mettermi Paradenti Eccetera Perché Digregnavo Proprio i denti Capisci Io penso Che questo Sia dovuto Me lo devi vedere Tu Grazie Scusate Ma Questo cosa Scusami Al fatto che tu fossi Tormentato Durante il giorno Eh Un po' Anche durante il giorno Penso che questo Si riflettesse Anche durante la notte Allora Sì Te lo do Al cento Per cento Come La qualità Del sonno Dipende Togliamo Agenti Disturbanti Esterni Però se siamo Da soli In un ambiente Silenzioso La qualità Del sonno Dipende Dalla qualità Della giornata Dalle qualità Della vita Dalla qualità Della veglia Per meglio dire Ecco non della vita Della quotidianità Intendevo dire Quindi la qualità Per dirla bene La qualità del sonno Dipende Dalla qualità Della veglia Se io Durante la fase Di veglia Sono tranquillo Sereno Rilassato Sorridente Vivo bene Mi addormenterò Allo stesso modo Se io ho avuto Una giornata stressante Se ho avuto Delle brutte notizie Dei cattivi pensieri Ho vissuto Delle emozioni negative Eh se non riesco A lasciare andare Se sono agitato Stressato In ansia Mi addormenterò Così Il che poi Non vuol dire Che matematicamente Allora dormirò male Però c'è molta Probabilità E molta possibilità Che la mia qualità La qualità del mio sonno Non sia quella Del sonno ristoratore E anche in questo caso Abbiamo chiaro tutti Come a volte Ci svegliamo riposati E a volte Ah mi sono svegliato Più stanco Di come sono andato a letto Quindi Un motivo C'è per forza Per cui a volte Ci svegliamo Ristorati E a volte no Certo E poi il discorso Che durante il sonno Praticamente Tu riporti I problemi Che hai avuto Durante la giornata A me è capitato Di avere dei problemi Che ne so All'ospedale Dove ero sul lavoro E sognavo Almeno mi sembrava Di ricordare Di avere a che fare Con le stesse persone Con le quali Avevo dei problemi È automatico Tu mi dirai Non è automatico Ma come Come mi hai detto Giustamente tu Capita È un po' come Come nella fase di veglia Quando Uno non mi dà la precedenza E allora mi incavolo Al semaforo All'incrocio Beh Può durare tre secondi Nel senso Ok non mi ha dato La precedenza Boh Ok Oppure io posso stare Tutto il giorno A rimuginare E magari a raccontarlo A tutti quelli che incontro Ma sapete che stamattina Uno non mi ha dato La precedenza E quindi io durante La fase di veglia Continuo a rivivere In realtà Quell'episodio Che sarebbe potuto Durare tre secondi Ed essere confinato Nel passato E invece non è passato Per niente Perché se io lo racconto È ancora assolutamente Nel presente E è uguale Poi me lo posso portare Durante la notte Non tanto se l'ho raccontato Durante il giorno Ma se magari nella mia mente Ho continuato a rivivere O a rimuginare Come si sol dire Su quell'episodio lì Quindi tutto quello Che io non riesco Molto di quello Che io non riesco A lasciare andare Durante la fase di veglia Il rischio Che comprometta La mia fase Di buon sonno C'è sicuramente Senza dubbio Grazie Figurati Grazie a te Spunti super interessanti Grazie Maurizio Allora aspetta un attimo Elena Perché io ho sbagliato Prima Io Mister Key Non aveva chiesto Non aveva detto Che lui Sognava di precipitare Ma di percepire Quindi ho sbagliato io a leggere Percepire Ok Beh guarda Nell'errore Direi che la risposta È esattamente la stessa Cioè tolto Tutto il discorso Della coscienza Che precipita nel corpo È la coscienza Che percepisce Altre dimensioni Altre realtà Forse si è collegato Un pochino dopo Perché è stata un po' la premessa Cioè quando durante Il sogno Ci sembra di incontrare Persone Che magari ci Ci suonano Ci risuonano Ci vibrano Familiari Ma che non riconosciamo O stanze O ambienti Quindi È possibile Che noi andiamo In quel momento In altre percezioni Viviamo in altre realtà Diverse da quella materiale A cui siamo abituati A vivere ad occhi aperti E abbiamo quelle percezioni Lì Assolutamente Guarda Scusami Perché allora Mister Kille Io però ti invito Perché la domanda È molto complessa Adesso non lo farai Perché provi motivi Poi metterò qua il link Collegatevi su Zoom Allora Chi mi dice Mi scusi Stefano Non era proprio Questa la domanda Non dicevo Che Percep Che Aspetta Che Percepito Ma percepisco Livelli diversi E li riconosco Come se ci fosse Ogni volta Ci fossero ogni volta Dimensioni diverse Tra di loro Che li riconosco Che riconosco Eh Sì È un'affermazione Più che una domanda Ma che io condivido A pieno Cioè È assolutamente così Fidati di quelle tue Percezioni Di quelle tue Accorgimenti Nel senso Di quelle cose Di cui ti accorgi E Stai lì Cioè Non ignorarle Non far finta Che siano Che non esistano E poi Chiaramente La certezza Che siano Proiezioni mentali O Cose reali Di quella fase Quello lo puoi sapere Soltanto tu E solamente con L'esperienza Solamente con L'allenamento Partiamo dal presupposto Che Qualunque cosa Vogliamo imparare A fare O diventiamo bravi A fare O siamo bravi A fare L'abbiamo Allenata Non è che noi siamo bravi A fare qualcosa Senza averla allenata Ma anzi Più l'alleniamo Più diventiamo bravi Quindi Anche in quella fase Di sogno O Ancora prima Di addormentamento Noi più alleniamo Un addormentamento Consapevole Siamo bravi A farlo Senza ritornare Su quei Tragici mesi Del 2020 Ma quando Mi hanno regalato Tre mesi e mezzo Liberi Senza poter lavorare Io lì In realtà ho Sperimentato Un sacco di cose Perché io lì appunto Avevo un sacco di tempo Liberato Cioè che mi è stato liberato E quindi io lì Praticamente Sempre tutte le sere Riuscivo ad andare a letto Con quella consapevolezza Ad addormentare Perché chiaramente Non mi ero Stancato Durante il giorno Avevo la possibilità Di svolgere tutte le faccende In un orario consono E quindi poi avevo il tempo Di arrivare a quella fase lì Con calma E con la massima quiete E quindi Mi sono proprio Molto allenato Nell'addormentamento Consapevole E i risultati Sono stati Pazzeschi Cioè quindi E poi una volta Allenato Una volta Che si arriva A fare il primo passo Sappiamo che Il secondo Il terzo e il quarto Li possiamo fare Se vogliamo Insomma Che dipende poi Come al solito Da noi Allora Intanto Per i nostri Amici Sui social Youtube Facebook Ho messo Il link Per accedere Direttamente Alla piattaforma Zoom Ci cliccate sopra E si entra Tranquillamente Allora Prima di dare la parola A Telemark Abbiamo Elena Buongiorno Buongiorno Stefano Buongiorno Edoardo Io Avevo bisogno Di un chiarimento Purtroppo Mi sono collegata Da subito Ho sentito Parlare Di sogni lucidi E nelle ultime settimane Più volte Mi sono Sentita Parlare Di sogni lucidi Cosa che Prima Io non avevo Mai sentito Però io Da molti anni Pratico Mi alleno Come hai appena detto Sono allenati A lavorare Nella fase Altezza Che è Ovvio Giusto Quella Che procede Il sonno E segue Immediatamente La veglia E È la stessa Cosa Cioè Praticamente È quella fase In cui Il cervello È in chiesa In cui Possiamo Ancora Guidarla Noi La mente Sì È esattamente Questo Che intendevo E possiamo Sempre Guidarla Noi La mente Possiamo Essere Noi A guidare La mente Oppure Lasciare Che sia La mente A guidare Noi È sempre È sempre Lì la scelta Il primo passo E che però Mi pare Che tu Lo abbia Ben Realizzato È quello Innanzitutto Di scindere L'io Dalla mente Quindi Il primo Fatto È Accorgerci Che La nostra Mente È nostra Perché Nella nostra Testa Ma che In realtà Lavora Agisce Per i fatti Suoi Ecco Quindi Quando noi Riusciamo A realizzare Questa Dissoluzione È il primo passo Dicevo Che come Hai appena Sottolineato Si possono Ottenere Risultati Grandiosi Però Appunto Io Non li ho mai Chiamati Sogni Lucidi Ho sempre Pensato Che Il lavoro Nella fase Testa Il fatto Magari Sono percorsi Diversi Sicuramente Andare In questo Stato Anche In fase Di veglia Quando Ad esempio Magari Si Sta Io Lo faccio Quando Lavoro Magari Sto Facendo Un lavoro Ripetitivo Sono Qui Nel silenzio Così Entro Volontariamente In questo Stato E Effettivamente Chiaro Nel corso Degli anni Ho portato A realizzare Anche cose Progetti Tangibili Con questo Allenamento Quindi Se è la stessa Cosa Che stavi Dicendo Tu Lo consiglio A tutti Allenatevi 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 Eh Sì Sì È assolutamente La stessa Cosa Che dicevo Io Ma intanto Mi dai Un piccolo Spunto Per ritornare Anche ai video Alle dirette Che abbiamo fatto Su questo canale Nei giorni Nelle Nelle settimane Scorse Non Cerchiamo Di non Fissarci Di non Focalizzarci Eccessivamente Sulle parole Perché Sì Sono utilissime Sì Sono importantissime Ma rischiano Di essere Una Gabbia Cioè Rischiano di essere Sbarre Magari dorate Ma pur sempre Sbarre Per esempio Sulla puntata Dell'altra volta In diversi Mi hanno scritto Ah però Anche nella Nella filosofia Vedica Atman Brahman E Jiva Loro dicevano Io coscienza Anima Vengono Vengono nominati In modi diversi E tu le hai tutte unite Sì L'avevo anche detto Poi durante la diretta Ma io le unisco Per praticità Perché ovviamente Qui non siamo a fare Una Un summit Universitario Di condivisioni Di sapere Di sapere I sanscrit I vedici O di filosofia Ecco Siamo qui Per far capire Alle persone Nella maniera Più semplice Possibile E quindi Il semplificare E l'alleggerire È il mio Modo di comunicare Che poi Ovviamente Può piacere Può non piacere Può risuonare A non risuonare Ma è quello Che secondo me È più efficace Per far avvicinare Più possibile Le persone A un'altra Visione Semplicemente Diversa Da quella proposta In occidente Nel tuo caso Che ovviamente Sei stato solo Il tramite Per farmi dire Questa cosa Il sogno lucido Ma possiamo chiamarlo Stogno lucido Possiamo chiamarlo Franchino Che non cambia Assolutamente niente Cioè La sostanza È quella lì Quindi Quello che hai descritto Tu È quello che io Prima avevo nominato Sogno lucido Che in sanscritto Ha il suo nome Che le neuroscienze Chiamano in un altro modo Ancora Ma appunto Arriviamo All'essenza Nella maniera Più semplice Possibile Che è quella Che poi funziona Senza complicarci Ulteriormente Ed inutilmente Il vocabolario La comprensione La quotidianità Ecco Allora Telema Grazie Elena Allora Per gli amici Di Zoom Se volete intervenire Dovete andare Dipende poi Se lo fate da computer O da smartphone Comunque dispositivo mobile Sotto Nella bottoniera Reazioni E c'è l'opzione Alza la mano Io vedo che avete alzato la mano E vi do la parola Infatti Mr. Kill Se sei entrato Ma non ti vedo Telemark Buongiorno Buongiorno Mi chiamo Paolo Ciao Paolo Mi hai citato Sarà una coincidenza Io la prima volta che parlo Mi chiamo D'Ascoli E Questo argomento Mi tocca molto da vicino Perché In famiglia Io avevo la mia La buonanima di mia madre Che non saprei come definire Se è peggente O In altro modo Lei Non entrava in trans Però Quando sognava Si era allenata E parlava con i morti Cosa che mi fa Rapprividire E Alla mattina Raccontava Degli eventi Che sarebbero accaduti In maniera Inequivocabile Mia madre era anche amica Di una famosa Vegente Che andava in trans Pasqualina di Civitanova Anche lei E' ceduta da Da molto tempo Faccio un eseguo E volevo chiedere Com'è possibile E Come C'è Come si spiegano Questi fenomeni Mia madre Per fare Un banale esempio Noi non vedevamo Vedevamo ogni tanto Una nostra parente Che sembrava stesse bene Ma non sapevamo nulla di lei Nel senso A livello di salute Una mattina Mia madre si sveglia E mi racconta Guarda che Ho parlato con mia cugina Che ovviamente era morta Che era parente Di questa nostra parente Dice Guarda che noi la vediamo bene Tutta quanta Ma lei questa ha un tumore Al fegato Non la vediamo Di colore verde Perché si trucca Molto bene E gli è rimasta Meno di un mese di vita Questa signora Dopo tre settimane È morta Questo è un esempio Di innumerevoli esempi Che mio padre Anche lui purtroppo Buonanima È arrivato a un certo punto Che non la verrà più sentire E gli diceva Guarda tu Quello che ti sogni Scrivilo Su un foglio di carta Lo metti in una busta Ci metti la data Poi dopo che è avvenuto Ce la mostri Ce la fai vedere Perché noi vogliamo sapere In anteprima Perché principalmente Erano disgrazie C'è stato anche qualche evento Felice Abbastanza felice Ma la maggior parte Degli eventi Erano notizie Abbastanza Drammatiche Come si riesce Non so se è possibile Dare una risposta Come è possibile Che queste cose accadano Cioè mia madre Era veramente Nel sogno È arrivato a un livello Tale Che chiedeva le cose Come Cioè Mi sembrava qualcosa Di assurdo Ma vi assicuro Mi sto sudando A nel raccontarlo Perché poche persone Sanno di questa cosa E Era veramente Stupefacente Io per esempio Non ho Assolutamente Sogno I classici sogni In dormiveglia Che uno magari Sta sognando Che Sta per andare A sbattere A fare un incendio E poi ti svegli Oppure stai facendo Qualcosa di piacevole E in un attimo E ti svegli Penso che sia una cosa Fase REM Penso sia Cose Normali Come si spiega Questa cosa Grazie Grazie Paolo Partiamo dalla fine Penso che siano cose Normali Cerchiamo di Almeno quando Vi collegate A questa oretta E poi portatelo Nella quotidianità Cerchiamo di andare Oltre il normale Cioè che cosa è normale Iniziamo a dare una definizione Di normale Una volta che abbiamo Scoperto che Il normale È dato dall'uso E non da una norma Vera e propria Nel senso che Non c'è nulla di normale O di anormale Ci sono le cose accettate O non accettate Nell'antica Roma Alcune cose erano Normali Adesso Sono dei reati Molto gravi Quindi Il normale Ok Quello che è normale Per te Soprattutto come sensazioni È normale Cioè quello che è vero Più che no Quello che è vero Per te come sensazioni È vero Partiamo da quello Partiamo da quello Perché il primo Che deve essere convinto Per poter dare forza Per poter allenare Quella Quella percezione lì È proprio Chi la vive Perché se no Se noi le releghiamo sempre Ah ma sì Dai sarò strano Non sarà normale Mi prendono per pazzo Una volta era così C'era la neuro delivi Adesso Ci si può esprimere Su questi temi Almeno in maniera Un pochino più libera Facciamolo Cerchiamo di superare Anche quella paura Della condivisione Mi rendo conto Che magari andare A raccontare Certe cose In determinati ambienti Che può essere Il lavoro Famiglia Scuola Può essere più difficile Che in altri Perché Se non c'è quel tipo Di sensibilità Diventa magari Che mettono un muro Le persone Perché hanno paura I muri Il muro è fatto Perché ho paura Perché se io non ho paura Non costruisco muri La fortezza ha il muro Perché ha paura dei nemici Non perché vuole accogliere I nemici No Quindi se noi Troviamo Anzi Impegniamoci a trovare Delle persone Con cui poter Condividere queste cose E poi facciamolo Detto questo Un'altra cosa Da superare È il bisogno Assoluto Che ci sia Una spiegazione La nostra mente Ci hanno allevato Così Quindi Mi rendo conto Che sia così Ma la mia La nostra La nostra mente Ha bisogno di sapere Perché il triangolo È fatto in un determinato modo Perché l'area del triangolo Si calcola in un determinato modo In questo In questi altri universi paralleli In questa altra percezione Oltre la vista Questo metodo Non funziona quasi mai Come dicevo prima Uno più uno Dobbiamo essere pronti Al fatto che faccia Qualunque numero Qualunque possibilità Come dire Come spieghi Che ti piace la pizza Come spieghi Che preferisci Il pistacchio Al gusto puffo Non te lo poni neanche No? Ecco Quindi Partiamo da lì Nel senso che ci sono delle cose Che non per forza Hanno una spiegazione O che magari ce l'hanno Ma non è neanche utile Trovarle Se abbiamo delle percezioni Se incontriamo Delle persone Che hanno Delle percezioni Che poi si realizzano Ascoltiamole Accogliamole Facciamole sentire Comprete Condividiamo Magari La nostra piccola O grande esperienza Come dicevo L'altra volta Da cui poi Forse è nata Proprio l'idea Di quest'altro video Di quest'altra diretta È che io avevo chiesto Appunto Alcuni anni fa Di condividere Con me Delle esperienze Di chi avesse vissuto Delle premonizioni Che poi avrei messo Appunto nel mio libro E Ne ho ricevute Decine Di decine E quindi Sappiate che Quando percepite qualcosa Non siete i soli Non siete nei primi Negli ultimi La parte Secondo me È veramente difficile Non è tanto Avere la percezione O avere la premonizione O avere La visione La parte Veramente complicata È Lo scindere La proiezione mentale Dalla visione Quindi Ho vissuto quella roba Perché io vorrei Che fosse così O l'ho vissuta Perché è così L'ho vissuta Perché avevo acceso Il proiettore Nella mia mente O perché sono riuscito Ad avere A raggiungere Quello stato Ecco Quella secondo me È la parte difficile È sempre Quello dell'allenamento Non c'è altro Indicazione Che posso dare Sennò quella appunto Di addormentarsi Nella maniera Più serena Più consapevole Possibile Di far caso A quando ci si addormenta E poi Di cercare Piano piano Di indirizzare il sogno E allora poi Diventerà tutto Molto più semplice Ci sono sicuramente Delle persone Che sono più Portate Ad avere Delle percezioni Ci sono delle persone Che sono più portate A correre veloci Delle persone Che sono più portate A nuotare veloci Ci sono delle persone Che sono bravissime In matematica Altre che sanno Scrivere benissimo Dico dei talenti E delle doti A caso E delle persone Che hanno Quindi Tutti possiamo nuotare E correre Ma quanti possiamo nuotare E correre Come Bolt e Phelps Pochi Quanti possiamo avere Delle percezioni Tutti Quanti possiamo avere Delle mega percezioni Pochi Però Sicuramente Come Più ci alleniamo A nuotare Più siamo bravi A nuotare Più ci alleniamo Nelle percezioni Più siamo bravi Nelle percezioni Allora Allora WeWeCat Un attimo Da Youtube Adesso C'è una domanda Da Facebook Un attimo Che rientro Un secondo Allora Anna Anna Preparati Che pongo la domanda Al nostro Edoardo Allora Vediamo Anna allora Chiede Beh L'è arrivato in ritardo Si scusa Io ho sempre avuto Premonizioni E sogno Familiari Defunti Sono loro Che decidono Di entrare Nel sogno O io Che entro Nella loro Interessante Questa dimensione Grazie Allora È molto interessante Ed è uno Dei rischi Non dico di lei Di tutti Più grossi Perché a volte Non dico sempre Perché poi Però diciamo In molti casi Avremmo voglia Di rincontrare Il nonno La nonna Il papà Insomma Chi ci ha lasciato Chi ha lasciato Questo universo materiale E quindi Il rischio Che in realtà Quella sia una proiezione Nel senso Che siamo noi Che abbiamo voglia Di rincontrarle Quindi li chiamiamo Ma non li richiamiamo Veramente È una proiezione Quindi poi Non stiamo neanche Parlando con loro E questo è il primo aspetto L'altro aspetto È che magari Ci sono degli irrisolti Con queste persone Che quindi noi Abbiamo voglia Bisogno di condividere Di chiarire E quindi In una specie Di costellazione familiare E notturna Li chiamiamo E raduniamoli Gli attori Per mettere in scena Quella Nella sezione più positiva Nel mettere in scena Quel dialogo Quel confronto Per togliersi Quei sassolini Dalla scarpa Per chiarire Questa O quell'altra situazione Con questa Doverosa promessa Più siamo coinvolti Emotivamente Più il rischio Di errore Ovviamente c'è Perché Insomma Mi sembra palese Ecco Escludendo queste due cose Può essere entrambe Le faccende Potrebbe essere Loro che vengono A trovare Noi O noi Ovviamente noi E loro Nella forma disincarnata Che andiamo Nella realtà In cui sono In quel momento In cui magari È quella fase In sanscrito Bardo Cioè tra Tra due Universi paralleli Quindi Sì Universi paralleli Ma proprio tra la fase Di quando uno Lascia il corpo A quando poi si reincarna La reincarnazione Non è immediata Il Bardo Conosciuto come Il libro Tiberitano dei morti Ci dice che Il corpo Impiega circa 49 L'anima Impiega circa 49 giorni A passare da un corpo A un altro Quindi in quei 49 giorni Potrebbe essere Che a leggi Nello spazio Che apparentemente Ci sembra vuoto E quindi È più facile Che noi incontriamo Quella persona E che Quell'anima Ovviamente E che Quell'anima Riesca a dialogare Con noi Nella maniera Più semplice Molto più semplice Di quello che La realtà razionale Potrebbe farci pensare La mente razionale Potrebbe farci pensare Qui scendiamo Poi In un tema Sarebbe affascinante Anche affrontarlo Perché Però adesso Voglio lasciare Allora La domanda A WuiWiKat E dice Mi capita a volte Di sognare persone Che conosco Però di aspetto Differente Cosa vuol dire Cioè Sognare una persona Che però Ha un aspetto Differso Da quello che Realmente è È esattamente Quello che Accennavamo prima Cioè A livello Sensoriale Ci sembrano persone Familiari Nel senso Conosciute Però non ne Riconosciamo L'aspetto Magari è la stessa Coscienza Che noi abbiamo Incontrato In un corpo Diverso E quindi Facciamo un pochino Fatica A vederla A vederla con gli occhi Però la sentiamo A livello Proprio di sensazione Proviamo a pensare Anche Facciamo sempre Il parallelo Con la fase di veglia Perché in realtà Appunto Sono molto più Vicine Di quello che Potremmo essere Portati a pensare Anche nella realtà Nella veglia Ci potrebbe sembrare O ci capita Che Ah ma quella persona A me sembra di averla già incontrata Mi sembra di averla conosciuta Mi suona molto familiare Mi sono subito trovato d'accordo Mi sono subito trovato in sintonia E questo In positivo Oppure Eh ma quella persona A pelle Quella Di pancia Quella persona Mi ha dato delle Cattive vibrazioni Delle cattive sensazioni Eppure non l'abbiamo mai vista E quindi magari Perché Percepiamo Quella Quella coscienza Che avevamo già incontrato Che con cui non andavamo d'accordo Con cui andavamo super d'accordo E quindi Ci ritroviamo amorevolmente In questa nuova incarnazione È esattamente la stessa dinamica Ecco Allora Allora Qui non abbiamo più nessuna domanda Da YouTube Anche da Facebook Allora abbiamo delle domande Da Zoom Ricordo gli amici di Zoom Che devono andare sotto Reazioni Alzar la mano E poi gli do la parola Abbiamo delle domande Da Telegram Beh abbiamo affrontato Un tema veramente affascinante Anche oggi Poi vabbè Vorrei farti una domanda Però non è magari pertinente Però tu dici che Quando una Una persona Oltrepassa Ci vogliono 49 giorni Per la reincarnazione No? Sì Non lo dico io Però No 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 Lo so che non lo dici tu Ma la mia domanda è Allora Se è vero che ci sono invece Spiriti O entità O forze Spirituali Che invece Stanno in un luogo Per anni Per secoli Che magari sono morti Di morte violenta Certo Certo Ricordiamoci Sempre Magari poi dovremmo scriverlo sopra Perché è una cosa anche carina Uno più uno Può fare qualunque risultato Quindi non è che siccome La maggior parte Delle coscienze Impiegano 49 giorni A reincarnarsi È la regola fissa No C'è chi ci impiega Un secondo E chi ci impiega Cento anni E il Diciamo che l'intoppo In questa faccenda del tempo È proprio la relatività Del tempo Che Negli antichi Veda È spiegata benissimo Che gli anni Dei Deva Gli anni di Krishna Sono diversi dagli anni Sulla Terra È scritto Proprio Scritto Facile La fisica Ci dice la stessa cosa Oggi Che il tempo nello spazio Scorre in maniera Molto molto più lenta Fino a quasi a rallentare In prossimità dei buchi neri Rispetto al Al pianeta Terra È l'esempio classico Che si fa È se un gemello Sta a Terra E uno Va nello spazio Quello nello spazio Torna Molto molto meno Invecchiato Rispetto a quello Che è rimasto sulla Terra Quindi Anche Anche Che uno più uno Non faccia sempre due È perché Dobbiamo cercare Di andare oltre Il concetto Di spazio e tempo Che è difficile Perché tutta la nostra realtà Che ci spiega È un concetto Del film Interstellar Non so se tu l'hai visto Certo No bravo Esatto Ecco Sì sì Giustissimo Sì sì Bravo Ecco Un esempio Ancora più semplice Lì si vede esattamente Questa roba qua Esatto E non è Cioè È fantascienza Il film Però Quell'aspetto lì Del tempo Che passa in maniera diversa È un aspetto Più che confutato Ormai Ma addirittura Nel micro Anche Anche Tra la cima Del Monte Bianco E la pianura padana Il tempo Non viaggia nello stesso modo Quindi bastano Già 4.000 metri Chiaramente si parla Di frazioni Di Di micro frazioni Di secondo Però già lì C'è una differenza Quindi Immaginatevi Ad andare in altre dimensioni Quanto sia differente Lo scorrere del tempo Sullo Anche Anche Gli ambienti Che quella Che hai detto tu Del Di percepire Delle anime Non sereni In determinati ambienti Questo credo Che più o meno L'abbiamo provato In tanti Che Quella stanza Mi dava Delle brutte sensazioni Quella Non ho comprato Quella casa Perché mi dava Delle brutte vibrazioni Io ho fatto anche Un'esperienza Insieme a Insieme a Giulia La mia compagna Siamo andati ad esplorare Un Un Senza dire dove Un Anche se sul canale YouTube c'è Un manicomio Abbandonato Siamo entrati Sereni Non è che siamo entrati Pensando Chissà che cosa troviamo Ma Ma sì Abbiamo un'oretta Prima di fare l'aperitivo Andiamo a farci un giro qua Visto che siamo in zona E Da subito Abbiamo avuto Delle sensazioni Strane Mettiamola così Delle sensazioni Particolari Di vario tipo Sia io che lei Senza che ce lo fossimo detti Ci siamo poi detti La stessa cosa E in più Come poi si vede anche Nel video che abbiamo girato E pubblicato Ci ritroviamo Addirittura Un'interazione Fra delle Delle entità Invisibili Agli occhi Con la nostra realtà Materiale Ovvero Gli zaini Aperti La cosa interessante E dico io Non avevo bisogno Di questa prova Ma visto che c'è Giochiamoci anche Questa carta Che nel video Si vede proprio Lo zaino Che prima è chiuso E poi è aperto E siamo solo io e lei Quindi E questo è Un'altra prova Provata Che ci può essere Assoluta interazione Fra Il mondo degli spiriti E la realtà materiale Che può essere La penna Che cade dal tavolo Senza motivo A lo zaino Che viene aperto Ecco Quindi poi questo è Un altro Tema a parte Ma Questo è un altro Tema a parte Interessante E intrigante Eh sì Senti Adesso io ti faccio Una domanda Tu mi direi Ma certo che sei strano Stefano Non è capitato a me È capitato Molti anni fa Quando ero sposato Con La mia moglie E Adesso la racconto brevemente Una mattina Ci siamo svegliati C'è lei che mi ha svegliato Tutta sudata E mi fa Io mi sono alzata Poco fa Sono andato in cucina Noi abitavamo Vicino a un bosco Eccetera E a prendere un caffè Solo che ho aperto Le persiane Era mattino alle sei Quindi era estate C'era luce Ma quello che io vedevo Era la penombra Cioè io vedevo Il sole Che però Non rifletteva il sole Ma era una penombra Era tutto Viola grigiastro E io ho detto Ma avrei sognato No? Poi ho guardato la mano E aveva un cucchiaino Il cucchiaino Da caffè in mano Che lo stava stringendo E gli faccio Ma questo cucchiaino? E mi fa Io sono andato a bere caffè E sono tornato Con un cucchiaino Nel letto Cioè Lei mi ha proprio descritto Questa Questa luce Che però era un crepuscolo Un crepuscolo A me affascinano Questi Questi racconti Affascinano Perché comunque Anche Come ho detto prima Anche se io Sicuramente mi voglio illudere Di non aver bisogno Delle conferme Però poi dei feedback positivi O dei rinforzi positivi Come piace dire Agli psicoterapeuti Fanno piacere a tutti E tutto sommato Gratificano anche un po' La nostra parte di ego Che ha bisogno Di essere sicuro Di quello che pensa Perché lì poi entra il pensiero Non è più il sentire Perché sul sentire Lo sappiamo tutti Che c'è molto altro Rispetto a quello Che vediamo con gli occhi Però siccome Appunto Tutto il sistema Rema esattamente Quasi tutto il sistema Rema esattamente Dalla parte opposta Ci servono Quindi grazie di questo racconto Perché secondo me È super affascinante E anche lì Che cosa Cioè Io non ti chiedo Cosa vuol dire No appunto Lei aveva questa prova Lei aveva Cioè aveva un cucchiaino Un cucchiaino da caffè Che fa Io ero andato Esatto Quell'interazione Fra Gli universi Che appunto Sono paralleli Ma sono Sovrapposti Non sono paralleli Come i binari Del treno Che non si incontrano mai Ecco E quindi Secondo me Il grosso Sforzo È proprio quello Di uscire dal È giusto Sbagliato È vero Non è vero O Il cercare Per forza Una spiegazione Vediamo Non ce l'ho qua Sarebbe stato Ecco anzi Sì no Ce l'ho qua Facciamo finta Adesso se non distruggo tutto Per fare questa spiegazione Ho fatto un casino Facciamo finta Che io Con questo CD Se io Con una macchina del tempo Andassi indietro di 60 anni O di 40 anni Come faccio a spiegare il CD A uno Che non ha il lettore CD Ma Se io riuscissi a portare Questo CD Indietro di 60 anni Questo CD Sarebbe vuoto O sarebbe pieno Sarebbe comunque pieno Perché è pieno adesso Però Manca Il lettore CD Quindi non può essere Decodificato Ma non Perché questo non esista O perché sia vuoto O perché non abbia Delle informazioni È perché non ho lo strumento Per poterlo fare E anche A spiegarglielo Cioè Faccio fatica io Anzi Se qualcuno Quando hanno cercato Di spiegarmi Com'è possibile Che qui dentro Ci siano delle foto Dei film E delle E delle canzoni Io non ho mica capito Come sia possibile Figuratevi A spiegarlo A una persona Che non ha neanche Il lettore CD Quindi che non ha neanche La possibilità di provare Sulla sua pelle Che veramente Ci siano delle informazioni Dentro lì È la stessa cosa Quello che Lo sforzo Che dobbiamo Un pochino fare È Crediamo Che dentro Fidiamoci Che dentro qui Ci sono delle informazioni E poi Il lettore CD Ce lo costruiamo Poi riusciamo A trovare Quel decoder Quel decodificatore Che ci permette Di vedere in maniera Chiara Quelle informazioni Quando ci riusciamo Domani Forse sì Fra 300 anni Forse sì In altre Dieci Incarnazioni O in altre Dieci Pianeti superiori Magari sì Magari Pensiamo Che Nessuno sa Perché la Terra gira Per esempio Nessuno sa Che cosa sia La forza di gravità Per esempio L'ha provato a spiegare Einstein L'ha spiegato Einstein Ed era una cosa Completamente diversa Da tutto quello Che si è sempre pensato Quindi Rimaniamo aperti Cominciamo ad accettare Soprattutto le nostre sensazioni E quello che vediamo Cioè Io ho visto lo zaino aperto Me lo devo spiegare No ho visto lo zaino aperto Tu hai visto il cucchiaino Nella sua mano Mi piace il gelato al pistacchio Lo mangio Partiamo da lì Mi ricordo Il paradigma Non mi ricordo Il film Quello con Roberto Benigni Quando si ritrovano lui E l'altro attore Non ci resta che piangere Non ci resta che piangere Che cercano di spiegare A Leonardo da Vinci Il telefono Ah bravo Bravo Ecco Esattamente Ascolta Edoardo Io ti lancio un'idea Per la prossima settimana Perché Avrei un'altra cosa Da raccontare Ma non voglio farla adesso Uscita dal corpo astrale Vuoi che affrontiamo Quel tema La prossima volta Sì 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 Voglio perché Poi voglio raccontare Una mia esperienza Un po' diretta Ma certo che sei strano Stefano Nei fatti Dico Sì Troppe Effettivamente Perché è un tema interessante Credo che Potrà piacere A molte persone Bisogna spiegarlo Ma io non me lo dimentico Sì Sì Uscita dal corpo astrale Voi sapete Cos'è il corpo astrale Vero cari ascoltatori Casomai Documentatevi Io credo che comunque Che qui che ci sta ascoltando Qualcosina sa Sì Possiamo magari Ecco Perché se no Esatto Poi il rischio È di fare tutta l'ora Della prossima parata Del corpo astrale Quindi Il consiglio Che secondo me è giustissimo Incominciate a informarvi Sul corpo astrale Ovviamente faremo magari Dieci minuti Su questo Di ricapitolazione Sul corpo astrale Poi diamo Diamo sfogo Alle condivisioni Ottimo Ottimo Allora ragazzi Però io lo dico Ai nostri amici Di Facebook E di Youtube Perché certe volte Anche leggere Le vostre domande Magari sono un po' Complesse Allora Io metterò Ogni mattina Scusate se non l'ho fatto Il link Per entrare Sulla piattaforma Zoom Chi non sa Cosa è Zoom Si fidi Gratuita Siamo noi Che paghiamo Zoom Quindi Non dovete far nulla Andate sul link Di Zoom Entrate Direttamente Nella Room Tra l'altro L'audio è sicuramente Molto Migliorato Che su Telegram E poi Nella bottoniera Sotto C'è un pulsante Che si chiama Reazioni E lì si alza la mano Edoardo Grazie Veramente Grazie Ho visto che ci sono ancora tantissime domande Prendine una Dai Una e poi chiudiamo Allora Quella Vabbè Una Questa la risolviamo veloce 49 giorni Avevo letto circa 70 anni Sarebbe interessante sapere dove hai letto Alessandra Cappellini Da Facebook Dove hai letto dei 70 anni Io il numero 70 anni Onestamente non l'ho mai trovato Nei testi Che vuol dire che magari Una mancanza mia Ci mancherebbe altro I 49 giorni Sono descritti Nel Nel libro tibetano dei morti Stiamo aperti Cioè non ci focalizziamo 50 48 Allora sono 42 No Se abbiamo sensazioni Di reincarnazione Stiamo Stiamo lì Il tempo non esiste Il tempo esiste Esiste comunità di misura Sul pianeta Terra Esiste in relazione A due oggetti A due eventi Ecco mettiamola così E poi Le altre E poi ecco Sempre Anna che dice Io non ho bisogno di conferma sul CD È un sentire Non si riesce a spiegare Non è una domanda Ma direi che riassume Perfettamente Tutta questa ora E pochi minuti Che è quello che volevo Comunicarvi Cioè possiamo E a volte ci sono Delle spiegazioni Ma Se sento il CD Iniziamo a godere Della musica Che esce da quel CD Senza spiegare Senza cercare di capire E magari di rovinarci Anche Il godimento Cercando di analizzare Il perché C'è una musica Che esce dal CD Passo indietro Perché ci piace La musica Quella musica E non un'altra musica Ci diamo una spiegazione No Ce la godiamo E va bene E va bene così E poi ce n'era un'altra E questa poi la chiudiamo Che ora però Non trovo più Niente Non la trovo più Ce ne sono troppe Niente Va bene Non la trovo più Ma comunque Poi magari le recuperiamo E rispondiamo La prossima volta Dai senza Ecco Ma prendete l'abitudine Ragazzi Di entrare in vocale Tanto Cioè si sente la vostra voce Ma almeno abbiamo Un rapporto più Più umano Che con la scrittura Giusto Edoardo? Sono super d'accordo A me infatti Una cosa Quando parlo Di questa esperienza Che stiamo facendo assieme La prima cosa che dico è Ma sapete che ci sono Le persone che intervengono a voce Perché Soprattutto sul web Io non so Se sia l'unica trasmissione Ma sicuramente L'unica È l'unica È l'unica Il Fredo da quattro anni È l'unica Trasmissione Vedi Perché È una possibilità Che non dà nessuno Perché Ne parlavo anche di questo Con Giulia L'altro giorno È una cosa bellissima Che ovviamente Richiede uno sforzo maggiore Nel senso che io Non so mai le domande Che mi vengono fatte Che quindi A volte Centrano con l'argomento A volte mi richiedono E a volte mi richiedono Uno sforzo Di andare a ripescare Conoscenze Però è un rischio Tanto se non so Rispondo non lo so E non ho nessuna paura A rispondere non lo so È un rischio È una fatica Che a me piace tantissimo Vivere Perché è questa condivisione Che dici tu Cioè È da un rapporto Molto più umano Sentiamo la voce Sentiamo le emozioni Sentiamo l'intonazione Che è Che già ci dice molto Del vissuto Della domanda Dell'intenzione Quindi Bellissimo Del resto capisco Che siccome non siamo Abituati a farlo Tanti hanno Un po' paura Un po' paura Di fare la domanda Che considerano sbagliata Che considerano inutile Di mettersi in gioco Quello che vi posso dire È che appunto Come vedete Non insultiamo nessuno Non siamo Quel tipo di programma Ma anzi Se vi possiamo aiutare A superare Quella paura E quella timidea Siamo solo che contenti Insomma Ottimo Infatti siamo l'unico L'unico canale Che dà In tutte le trasmissioni È tutte Noi facciamo sempre dirette E sempre con interventi Dal pubblico Quindi È per quello che E non concordati Tra l'altro gli interventi No 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 Assolutamente È per quello che Anche su YouTube Da poco che io leggo le domande Però è sempre un po' difficile Anche durante il mattino Ci sono molte domande Invece con interventi vocali È tutto molto più semplice Edoardo Io ti ringrazio Lascio a te la chiusura E a giovedì Il tuo Ecco il giovedì È il giorno di Edoardo A meno che non ci siano Suoi problemi Allora dobbiamo spostarlo Bene Oggi Della scoperta Della scoperta dell'America La scoperta Cristoforo Colombo O addirittura I Fenici Ok Andiamo in chiusura O addirittura Ben prima Dei Fenici Ma Guarderò con molto interesse La vostra Questa 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 Io come al solito Ringrazio tutti E siete sempre tanti Sempre di più I partecipanti È quello che mi piace Insomma appunto La condivisione L'interazione Quindi grazie davvero molte Ho accennato Se volete seguitemi anche Sul mio canale YouTube Edoardo Cicconi All'interno del quale Approfondisco questi temi Condivido Delle meditazioni guidate Con le campane tibetane E Condivido Anche dei video Di intrattenimento Proprio per cercare Di alleggerire Di rilassarci In una maniera Un pochino più costruttiva Rispetto ad altre Stiamo sul generico Ad altre Forme Di 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 Divisione Di audiovisivi Grazie Buona giornata E come al solito Fuori e dentro Il viaggio continua Namaste A chi non si può parlare Ci hanno tolto la speranza Non ci lasciano Capare Ma ci lasciano speranza Ma per fortuna C'è una voce Ancora libera E sincera Nella rete Che ci dice La notizia Quella vera Pecciolini Network Per fortuna Adesso c'è Pecciolini Network Chi da voce Pure a te Cultura Informazione Diretta Profusione Per fortuna Adesso c'è Pecciolini Network Chi da voce Pure a te Cultura Informazione Diretta Profusione Pecciolini Pecciolini Sai che non ti deluderà Pecciolini Network Perché quando Non ne ha Nessun social E canali Con i suoi Hospiti Speciali Pecciolini 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 Ave